Un elemento importante quando si studiano le politiche pubbliche è quello di avere ben presente che, come abbiamo accennato anche in precedenza, le politiche pubbliche sono prima di tutto un costrutto analitico. Cosa significa? Un costrutto analitico significa che stiamo dando una definizione per poi tradurla in qualcosa che è osservabile direttamente nella realtà. Dunque, questi costrutti analitici sono il dizionario dei concetti delle politiche pubbliche. Tutte queste lezioni, attraverso approfondimenti, attraverso esempi e attraverso aspetti più squisitamente teorici non faranno altro che dare costrutti analitici. Una sorta di dizionario di concetti, che sono raccolti anche importanti, i dizionari delle politiche pubbliche, per esempio pubblicati in italiano e anche in altre lingue, che danno appunto la varietà di quelli che sono i concetti primari. Allora il primo concetto primario è capire appunto che cos'è una politica pubblica. La sua definizione non è per niente immediata, tanto è vero che esistono ben quattro definizioni in letteratura e queste quattro definizioni vogliono cogliere aspetti diversi, non sono alternative. Si sono succedute nel tempo per cercare di mettere a fuoco aspetti diversi dello stesso problema. E come spesso ci renderemo conto, attraverso lo studio di questa disciplina, gli studiosi più volte utilizzano definizioni provocatorie per cercare appunto di definire questo costrutto analitico, in maniera abbastanza simile a quello che fanno gli psicoanalisti con il concetto di superego o di inconscio o di mente, dei concetti che sono dei costrutti e che vengono poi dopo osservati deduttivamente nella realtà perché non possono essere immediatamente osservati in modo diretto. Allora la prima provocazione è quella che ha detto Thomas Dike, è quella che una politica pubblica è tutto ciò che il governo decide di fare o di non fare. è particolarmente importante questa provocazione perché ci sta dicendo due cose fondamentali. Il primo, che la politica pubblica è sempre un'azione e quindi è ciò che fanno i governi o comunque chi governa anche se non è necessariamente un esecutivo, per esempio una corte di cassazione piuttosto che un'agenzia di servizi pubblici privata o pubblica. O, e in secondo luogo, ancora più importante, che governare è sia fare sia il non fare. La non-azione è un'azione di policy. E allora che cosa stiamo veramente andando a vedere? Che cosa ci sta dicendo, Dai? Ci sta dicendo che noi stiamo andando a identificare dei sistemi di azione dove si agisce per coercire, cioè per influenzare, esercitare potere, esercitare autorità, sia dando delle direttive precise, sia non facendo assolutamente niente. Per esempio rimanendo passivi dinanzi all'inflazione derivante per esempio dall'introduzione della moneta unica. Anche quella è un'azione di policy. Allora, le definizioni sono, tra di loro, incrementali, perché via via che ne scorreremo, la definizione di Dai, quella di Jensen, quella di Anderson e quella di Dunn, cercano di essere sempre più complete, cercano di inserire elementi sempre nuovi. Ma l'elemento che dobbiamo capire è che noi stiamo identificando un sistema d'azione, dove stiamo guardando degli attori, le loro logiche di azione, le loro risorse o i loro vincoli, anche le loro percezioni in un certo misuro, e il contesto istituzionale che le sta circondando. Bene, quello è un luogo preciso e quel luogo preciso non esiste indipendentemente dall'osservatore. È l'osservatore che decide di identificarlo, perché appunto è un costrutto analitico, esattamente come lo psicanalista individua l'inconscio di quella persona, di quel paziente che è davanti, in quel momento per quel fine. L'osservatore, l'analista, definisce l'oggetto mentre lo sta osservando, perché lo sta circoscrivendo. Ecco perché studiamo le definizioni.